Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto semplificazioni. Il testo prevede lo snellimento dei procedimenti amministrativi, l'eliminazione e la velocizzazione degli adempimenti burocratici, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il sostegno all'economia verde e all'attività di impresa. Tra le misure principali in materia di contratti pubblici si introduce in via transitoria fino al 31 luglio 2021 una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. In Italia la pandemia di coronavirus ha spinto l'economia in una grave recessione, ma l'attività economica è ripartita in maggio e si è confermata anche nello scorso mese di giugno. Ci sarà un'ulteriore ripresa nei prossimi mesi, ma si registrerà comunque un calo del PIL dell'11,2%, con un aumento del 6,1%, previsto poi per il 2021. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni nel corso della presentazione delle previsioni economiche estive della Commissione europea. L'Italia occupa l'ultimo posto tra i paesi che hanno subito più danni economici dalla pandemia, a seguire Spagna, Croazia e Francia, mentre la Germania registra un meno 6,3% ed è uno dei paesi migliori in Europa per performance economica. Il decreto rilancio comprende incentivi anche per le auto Euro 6, oltre che un aumento dei bonus per le ibride e le elettriche. Le auto Euro 6 sarebbero quelle con emissioni di CO2 fra i 61 e i 110 grammi al chilometro. Il bonus sarebbe legato alla rottamazione di modelli vecchi oltre 10 anni, da dimezzare senza rottamazione. A causa del coronavirus nel 2020 i consumi interni delle famiglie italiane caleranno del 9,7% rispetto al 2019, in parallelo con una crescita della propensione al risparmio di 6 punti percentuali, il valore più alto degli ultimi 20 anni. Lo rivela uno studio Prometeia e area studi Lega Coop. Alla fine del 2021, nonostante un recupero del 5,1%, nessuna delle voci di spesa avrà raggiunto i valori pre-Covid. Grazie a tutti.